Bene, siamo pronti per l'ultimo match della serata. Arbitra il signor Dario Bibiani. Sulla distanza di sei riprese da tre minuti, nella categoria Super Welter, con un peso di 69,750 kg, all'ancolo blu proveniente dalla Georgia, Dito Gugliashvili. Grazie a tutti. All'angolo rosso, per la Spezia Box, con un peso di 69,850 kg, il nostro pugile di casa e unico professionista spezzino in attività, Ivan Medlemma! Grazie a tutti. 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 Fai in secondi Grazie a tutti! 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 Fuori i secondi! Grazie a tutti! 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 Terza ripresa! Grazie a tutti! 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 Fuori i secondi! Vai! bravo Liva BINCHE PEREN CAPAO TÉCNICO ALAN DOLOROSO IVA MEDMAN MAÑO YAY! BINCHE PERENTA BRANCHE PERENTA WE LIFE, WE G, WE STEAL WE LIFE, WE G, WE STEAL WE LIFE, WE G, WE STEAL